Adesso, gliela fai tu la dedica, guarda, eh, prendi il microfono, attento il rossetto, non metta ce lo sopra, guarda che c'è anche le parole, perché io ho poca memoria, molta poca. Grazie ancora, ragazzi, un attimo di attenzione, prego, la dedica è importante. Elena, Eros e Enrico, Elena, Eros ed Enrico, gli dedichiamo, come hai detto tu, un angelo e un stelo al sol. Ok.